bentornato oggi vediamo delle elaborazioni armoniche molto articolate e trovi come sempre la tab sotto il video è una versione speciale con la copertina elaborazioni secondo quinto primo e anche tu narra anche primo sesto se ti mostro subito qualche se sei nuovo io ti invito a iscriverti al canale ma soprattutto al sito giambierobruno.it suona il corriere un attimo è venuto il corriere ormai amazon è in continuazione e in continuazione ho rotto pure il plettro a pollice era caduto per te mi sono seduto sopra perfetto le cose sono fatte peste usate il fast fret io ormai compro tutto online fast fret è veramente eccezionale pulisce le corde sembrano nuove capito sembra di suonare con la chitarra con le corde appena cambiate un'altra bellissima elaborazione sul primo sesto sul giro di do insomma bellissima 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 Bye, love Bye, love Sono elaborazione Faccio spesso Sono accordi comuni E infine Questo è Questo accordo ma è in re minore Questo è molto bello Trasportato E maggiore, E maggiore Si bisogna trasportarli Lavorare in questa maniera Ok Questa è in re minore Mi minore E c'è un interscambio modale qui Varie alterazioni Spero che ti ho dato l'idea Spesso trovi la tab gratuita Questa volta no È un'elaborazione speciale Che puoi prendere sotto il video Come un arrangiamento Mi raccomando Studia Approfitta Dopo le rimuovo Ci sono inoltre Le elaborazioni Sono a parte Sono una vendina di elaborazione E un pacchetto Te lo inserisco sotto il video Lo stesso Ti ringrazio per essere stato con me Se hai tempo Visita i video che seguono Se hai iscritto al sito GiambieroBruno.it Scarichi lezioni In base al tuo livello E trovi materiale Che non trovi qui Iscriviti anche al canale Se non è iscritto Un saluto Ciao Ciao